La scommessa dei borghi italiani è ora tutta da giocare. Esperienze innovative stanno dimostrando che i piccoli comuni sono la terra ideale della Green Society. Consapevoli che all'interno di questi territori ci possano essere già delle soluzioni concrete, presidiate delle esperienze che possano su questo affare storie a rete naturalmente.